Immerso nella splendida campagna di Belvedere Ostrense, a due passi dalla zona della lacrima, puoi ritrovare il gusto del mangiare bene e del bere meglio. Ristorante Legginestre Ecco, Roberta, per Pasqua 2017! Vi aspettiamo con il nostro menù, con la base di tartufo anche. Buona Pasqua! Buona Pasqua! Per il menù di Pasqua, antipasto capriccio. Lasagnette al tartufo Tagliatelle dell'ortolano Fritto misto all'italiana con torni dorati Cosciotto d'agnello ai carciofi Lombata ai funghi Insalatina di stagione Torta paradiso e spumante Cestini di frutta, caffè e digestivi Sì! Cosciotto d'agnello ai cari